Sì, sono due paga che siamo vinti, no? Non c'è male di Dio! Tu ci hai vinto! Sì, ora! Dove? Dai a ieri! E lo fa guardare in tua casa! Stefano, devi andare così! Ma sul giro di un mese solo, eh! Si dovrebbe farsi vento? Si dovrebbe farsi vento? No, no, da quel lato hai problemi! No, no, no! E' un'ombra! E' un'ombra! Non lo fa, non lo fa! Non lo fa, non lo fa... E' un'ombra! ...e' un'ombra di Giovanni e l'ombra di Gioca 5 minuti 5 minuti 8 minuti La roba della Marte Surely dai Stai amak E con le di Bocke автомào 44 Quelli che ci sono adesso posso veramente più trascosti. Potremmo la metterla a vedere. Quanti girate la pancia. Bisogna a abitare fuori al piede. E' grazie, no? Troppo sono una prima volta, no? Dai, non mi sono mai presente. Qua in campo non mi aiuto, dopo non ho volato in casa. Ti muovevi sticco. Eh? Ecco, va bene. Sì, che cosa stanno dicendo? Sì, che cosa stanno dicendo? Sì, che mi ricordo che mi aveva servito. È che ha fatto bene. Vai in acqua. Vai in acqua. Come si stai facendo. Cosa è una strada con il mio marzo? È un po' di grassà da mezza. Questo è un po' di ragazzo. Cosa vuoi sapere la trama? È un po' di giro. È un po' di giro. No, non ho scoputo. TONI lo per amare, però è un po' di giro. Grazie a tutti.